Ad un anno di distanza, la mostra Microquadro torna ad essere ospitata alla Galleria Lacanto di Mariella Torre. Durante questo lasso di tempo, Microquadro è ulteriormente cresciuta, si è diffusa, si è fatta conoscere, ha raccolto adesioni sempre maggiori ed è arrivata oggi ad oltre 400 opere di altrettanti artisti provenienti da tutto il mondo. In mostra si ha la sensazione di confrontarsi con quello che è sempre stato uno dei sogni dell'uomo, catturare con un solo sguardo, in maniera sinottica, sintetica, un intero mondo in tutte le sue dimensioni, in tutte le sue sfaccettature, andando a colmare il maggior numero possibile degli orizzonti di senso. Il colpo d'occhio che la mostra offre, nell'ambiente caldo domestico della Galleria Lacanto, garantisce proprio questa possibilità, l'osservare contemporaneamente il maggior numero possibile di visioni che il contemporaneo possa offrire, avere a disposizione un foglio murdo che sembra riassumere una serie variegata di universi. Ma subito dopo, l'occhio non si accontenta più di questa visione complessiva. Ragione ed emozione lo costringono a scegliere un particolare e portano l'osservatore ad avvicinarsi. A questo punto, i legami tra le piccole opere si fanno più stretti e siamo costretti a seguirli, a navigare spostandoci dall'una all'altra, in un duplice movimento dal totale al particolare e dal particolare al totale. Sicuramente la realtà è più complessa, ma altrettanto certo è che non si possa rimanere insensibili al fascino di questi micromondi che, affiancati l'uno all'altro, ci parlano come un unico pulsante universo. Per l'occasione, sono state esposte anche le opere della mostra Micro Young, realizzata fra il 2005 e il 2008 presso il Circolo Culturale Bertolt Brecht, oggi circuiti dinamici. Il Micro Young, che chiedeva a giovani artisti under 35 di realizzare opere in formato 10x10 cm, è possibile vedere la progenitrice della nostra microquadro.